Sì, grazie Presidente. Allora, ovviamente io ringrazio i proponenti di questa delibera che oggettivamente trattano un argomento che è molto vicino alle tematiche che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti. Io devo dire che in uno degli interventi è stato detto che questa è una delibera di programmatica di indirizzo. Ebbene, ci sono alcuni temi che vengono sviluppati in questa delibera, su cui noi abbiamo lavorato in questi anni e siamo andati avanti. Ora, per quanto riguarda le AMA di municipio, noi abbiamo fatto diversi atti di indirizzo su questo aspetto specifico e siamo arrivati a indicare, a metterlo come regola all'interno del contratto di servizio che Roma Capitale ha stipulato con AMA a luglio del 2019. Io ricordo che all'articolo 2 del nuovo contratto di servizio, al punto E, è indicato di concorre anche tramite i municipi all'individuazione delle aree necessarie per la realizzazione delle strutture fisiche funzionali all'esplitamento del servizio. Esempio, centri di raccolta, centri di uso, AMA di municipio. E questo all'articolo 2. All'articolo 8 è indicato, comma 2, alla luce della complessità e peculiarità del servizio di gestione dei rifiuti urbani nella città di Roma, il contratto è strutturato in un'ottica di decentramento che riconosce il municipio, quale ambito territoriale di riferimento. E poi c'è l'allegato B8 dove è indicato proprio c'è il progetto AMA di municipio. definizione del servizio, le strutture e un'interfaccia trama municipio e cittadini con l'obiettivo di presidere il territorio specifici ambiti di intervento. Ovviamente c'è una scheda lunga che non leggo tutto. Allora, diciamo che su questo punto siamo al di là degli indirizzi perché è stata messa all'interno del piano industriale, per cui già abbiamo dato questi indirizzi e oggettivamente quel passo che dovevamo dare, di dare la disposizione precisa nel, scusate ho detto piano industriale, volevo dire contratto di servizio, nel contratto di servizio è stato indicato. Ora, qual è il problema oggi? Ora, è stato affrontato nel lungo dibattito che abbiamo fatto oggi, in questa delibera e anche in quella precedente. Oggettivamente delle difficoltà ci stanno, cioè è inutile girarci intorno. Peraltro la neoassessora Ziantoni ha fatto, a mio avviso, un ottimo intervento, molto chiaro, molto pulito, senza fronzoli e ha dato anche delle spiegazioni molto chiare. Uno, uno dei problemi, perché poi ce ne sono tanti altri, è sicuramente l'aspetto dei bilanci. Noi con i bilanci c'è stato questo scontro con i 18 milioni dei servizi cimiteriali, ma detto francamente quello è stato il vaso di Pandora, perché quando siamo andati ad aprire un po' quegli aspetti ci siamo ritrovati che il problema era molto più ampio, molto più vasto, tant'è vero che adesso nel piano economico e finanziario che abbiamo votato di recente in aula è emerso i crediti inesegibili dal 2003 al 2009 di ben 104 milioni di euro. Allora, cosa abbiamo fatto, poi io lo vorrei ripetere perché non è un aspetto marginale, noi abbiamo tolto con il piano economico e finanziario questi crediti finti, finti crediti fino a oggi e adesso stiamo mettendo moneta sonante, ovvero in quattro anni restituiremo ad AMA dei soldi, tant'è vero che AMA quest'anno sostanzialmente avrà 37 milioni in più, poi altri 37, 17 e per cui stiamo mettendo fondi all'interno di AMA. Per cui è ovvio che ora c'è una difficoltà a 360 gradi di gestione del servizio perché l'indirizzo oramai è dato rispetto all'idea che bisogna assolutamente sviluppare l'AMA di municipio. Ma queste situazioni, poi le difficoltà di cui abbiamo parlato anche nell'altro intervento, vuoi l'incendio del salario, piuttosto l'anno scorso c'è stato lo stop di Malagrotta 1 e poi Malagrotta 2, insomma abbiamo affrontato un periodo molto complesso e molto complicato. Io vorrei ricordare, non lo dico a voi ma lo dico anche ai cittadini, che voi lo saprete già, ma ai cittadini che ci ascoltano, che ogni anno in Italia vanno incendiati 100 impianti di rifiuti. Noi abbiamo avuto anche nelle nostre vicinanze diversi incendi che hanno riguardato prima Pomezia l'anno scorso, Aprilia poco tempo fa, insomma problemi belli grossi perché dietro i rifiuti ci sta, c'è la mafia e questo problema è un problema oggettivamente enorme. Ora difficoltà ce ne sono, bisogna ovviamente avere la forza di invertire la tendenza, è quello che noi stiamo cercando di mettere in atto. Io vorrei fermarmi su altri aspetti della interessante, ovviamente molto interessante delibera che ci avete sottoposto ed è l'aspetto per esempio del controllo analogo. Allora sul controllo analogo noi abbiamo fatto delle delibere e AMA in questo momento è sotto il controllo analogo, c'è un comitato che gestisce il controllo analogo e segue AMA sotto questo aspetto, per cui anche questo aspetto noi lo abbiamo sviluppato. C'è un altro tema della delibera su cui vi siete soffermati e su cui noi poi dopo presenteremo anche un ordine del giorno ed è la questione degli osservatori. Allora sugli osservatori lo diciamo, su questo punto abbiamo delle visioni leggermente un po' diverse. Voi avete proposto questi osservatori deliberativi, politicamente noi da sempre, dall'inizio della consigliatura quando abbiamo valutato gli osservatori piuttosto che consulte, abbiamo sempre preferito l'aspetto consultivo della partecipazione dei cittadini piuttosto che deliberativo, per tante ragioni, perché poi le delibere devono essere, come dire, vagliate anche dagli aspetti tecnici, valutate nei dettagli. Io invece credo che politicamente sia giusto che si arrivi a degli atti consultivi, che in modo tale che anche con una partecipazione importante della cittadinanza, ma che rimanga comunque, se rimangano degli atti consultivi. Ecco, allora diciamo che è stato detto, noi non siamo figli di un dio minore sui rifiuti e il discorso è che effettivamente non solo noi ci ritroviamo nelle difficoltà oggettive nella gestione di rifiuti e per aspetti complessi di bilancio. Di Palma non la sentiamo più e si avvia a concludere. Sì, la ringrazio. C'è da dire una cosa, che tra le città europee, le capitali europee, quasi tutte hanno una raccolta differenziata inferiore a Roma. Questo vuol dire che all'ampiezza del territorio che si deve andare a coprire aumentano di conseguenza i problemi. Per cui io ovviamente ringrazio i proponenti di questa delibera, dichiaro che parteciperò all'iniziativa del 26 perché le tengo molto utile e vi ringrazio davvero per l'organizzazione di questi eventi. Però noi riteriamo sia per alcuni aspetti che di fatto non serve un indirizzo su alcuni temi perché li stiamo già attuando, almeno dalla parte dell'indirizzo l'abbiamo già fatto. Poi nella parte operativa, oggettivamente le Amedo Municipio sono tutte da sviluppare, ma il mancato sviluppo è relativo ai problemi che ci siamo detti. Per cui non serve questo. Non siamo d'accordo tanto sugli osservatori deliberativi. Poi dopo interverrò di nuovo per quanto riguarda un ordine del giorno che abbiamo presentato. e comunque il voto del gruppo di maggioranza sarà dunque per questi motivi di astensione.